Federico, cosa succede nella Lega? Tosi è fuori adesso? Noi adesso vogliamo lasciare da parte le beghe e incominciare a tornare a parlare di Veneto e offrire quella buona prospettiva che ha già saputo dimostrare Zaia per i Veneti. È stato il miglior governatore italiano, è dimostrato da tutte anche le rilevazioni fatte per i cittadini di Veneto, ha rivoluzionato la sanità dando maggiori servizi, ha dato un'aiuto a tutti quei giovani che hanno perso il lavoro o mai grado il governo Renzi se ne sia disinteressato, andiamo avanti su questa strada con la consapevolezza che i cittadini vogliono essere amministrati bene e non gli interessano di beghe.